Ma dai signore, ma vuoi veramente fare il vergino per tutta la vita? Dai! Non dirmi che vuoi farti prete. No, no, ho già parlato con i preti di Sant'Andrea e mi ha detto che si può. Voi mi prendete sempre in giro. Io amo Dio, amo il Signore che si dona a noi ogni giorno nel Santissimo Sacramento dell'Altare, che è morto per noi sulla croce, che... E basta, non siamo di avvento qua. Satti solo che arriverà il momento in cui avrei bisogno di otta l'ora di una donna, e adesso c'è stato qua. Ora puoi, che sei completamente solo, orfano di padre e di madre. Ho un padre ed una madre celesti, che mi amano e mi proteggono sempre. Vabbè, andiamo. Andiamo. Che sei fatto.